Signor Presidente della Repubblica, Segretario Generale, colleghe e colleghe, signori e signore. Non mi nascondo anche questa volta l'emozione per un incontro che cade in un anno particolare sotto tanti punti di vista. La pandemia, innanzitutto, non è vinta completamente come tutti auspicavamo, ma i buoni segnali non mancano, a partire da una campagna di vaccinazione, grazie a una campagna di vaccinazione, che procede in maniera robusta, anche se con profonda disparità tra aree ricche e povere del mondo. Lo scenario in vista dell'autunno non è univoco, ma confidiamo che la fase di transizione in corso si sviluppi senza passi indietro verso il meglio, grazie anche a nuovi strumenti introdotti in queste ultime settimane e altri che sono in fase di discussione e di elaborazione. È il tempo della ripartenza, dunque, a tutti i livelli. Aspiriamo a riappropriarci della nostra vita, come ha detto Presidente, già nell'ultimo discorso di fine anno, quando descriveva un'Italia in cui convivevano angoscia e speranza. Mi permetto di chiederle, sette mesi dopo, se possiamo dosare in maniera diversa questi due sentimenti e cosa fare per dare un corpo solido alla speranza. Sul terreno sociale ed economico viviamo mesi di parziale ripresa, dopo la terribile recessione del 2020, accompagnata dal numero record di persone in povertà assoluta. La svolta solidale dell'Europa ci ha consentito di progettare e avviare il nostro piano nazionale di ripresa, sul quale puntiamo per stimolare una efficace ripartenza, che ci consenta di superare, oltre ai danni della pandemia, vecchi problemi e freni alla crescita del Paese. Sono in arrivo molti fondi, lo sappiamo, vincolati però a un piano di riforme penetranti e serrate, su temi spesso divisivi come la giustizia, e lo vediamo in Parlamento proprio in queste ore, o il fisco, solo per fare qualche esempio, senza dimenticare le complesse sfide della transizione ecologica e digitale. Siamo davanti a una grande occasione, ma anche a una grande messa alla prova per le nostre istituzioni e la nostra comunità. Nel frattempo stanno gradualmente venendo meno alcune misure emergenziali, penso al blocco dei licenziamenti, mentre si cerca di accelerare su una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, ma è un lavoro complesso, lo stiamo vedendo. Non sappiamo se ci sarà un autunno caldo, Presidente, di certo nel bene e nel male sarà diverso da quello dell'anno scorso. Il mondo del lavoro vive a sua volta una fase di transizione, di grande trasformazione ed episodi come la morte del sindacalista Adil Belakdim squarciano drammaticamente il velo su quanto sia difficile tenere insieme innovazione, efficienza, diritti e dignità. Più in generale la questione delle diseguaglianze territoriali e sociali resta enorme di fronte a noi e colpisce gli attori più fragili, ma allo stesso tempo più potenti della nostra società, i giovani, le donne. Resi ancora più soli e deboli dalla pandemia, pronti a sviluppare tutto il loro potenziale se messi in condizione in questa fase di uscita dalla crisi. Penso per citare un solo settore, ma forse il più importante, alla scuola e alle incertezze che ancora avvolgono la ripresa dell'anno a settembre. Ricorrendo alla sua bellissima immagine dei costruttori di futuro, Presidente, è tra i corridoi e le aule che svolgono uno dei compiti più fecondi. Gli studenti non vedono l'ora di abbracciarli e assieme a loro muoversi verso un futuro all'altezza. Anche alla scuola arriverà un corposo sostegno dal PNRR, che, lo abbiamo detto, è la grande occasione di questo tempo. La mossa di un'Europa che, a sua volta, vive una transizione dagli esiti incerti, con le spinte federaliste e quelle sovraniste che continuano a scontrarsi. E le aperture solidali ed espansive, tutte da confermare, una volta chiusa l'emergenza sanitaria. Nella sua recente visita di Stato in Francia ha indicato un obiettivo chiaro, ovvero la definizione di un'idea di sovranità realmente europea contro ogni antistorica, così la definita pulsione nazionalista. È naturale chiederle in quale misura ritiene che questa prospettiva possa realizzarsi, viste le tante variabili in ballo. Penso, tra l'altro, alle prossime elezioni in Germania e poi a quelle del 2022 in Francia. Ed è inevitabile, Presidente, pensare allo scenario politico italiano. Dopo la crisi di inizio anno, viviamo una stagione nuova, con una compagine governativa dalla formula inedita e una maggioranza tanto ampia quanto articolata. Per restare nell'ambito di discussione europeo, a Roma convivono politicamente alcuni dei protagonisti che si muovono su fronti opposti nella dialettica tra federalisti e sovranisti, o sul terreno dei diritti civili e della tutela delle minoranze. In quest'ultimo campo in Italia si sta consumando anche uno scontro per certi versi inedito attorno al disegno di legge Zan in materia di omotransfobia. Abbiamo registrato la presa di posizione della Segreteria di Stato del Vaticano e raccontiamo ogni giorno le tensioni e le difficoltà di trovare una mediazione in Parlamento e forse anche nel Paese. Più in generale, il suo appello a non sprecare energie per inseguire illusori vantaggi di parte risuona ancora tra i palazzi della politica, mentre sta per aprirsi il cosiddetto semestre bianco. Sarebbe per tutti noi di estremo interesse, Presidente, una sua riflessione sui mesi a venire, quando arriveremo alla fine di quello che ha definito il suo ultimo anno come Presidente della Repubblica. Ma è anche di estremo interesse per tutti noi chiederle come ha visto cambiare il Paese in questi sei anni e mezzo, spesi tra il Quirinale, le comunità d'Italia e gli impegni all'estero e come è cambiata la politica dal suo punto di osservazione di arbitro, come si definì nel suo primo discorso davanti alle Camere, alle prese in questi anni con tanti giocatori scesi in campo e tante partite anche dure disputate in questi anni. Noi abbiamo seguito lei e continuiamo a farlo, il suo lavoro con grande attenzione e passione raccontando quanto assieme alla sua squadra abbia fatto e faccia per il Paese e anche per noi giornalisti con la costante attenzione per il nostro mondo. Un segno è anche la profonda evoluzione dei servizi dedicati all'informazione e alla comunicazione del Quirinale. Per questo non posso che ringraziare lei naturalmente, tutti i consiglieri a partire dal segretario generale Zampetti e in particolare Giovanni Grasso e Gianfranco Astori e con loro tutti i collaboratori. I media sono uno strumento prezioso e irrinunciabile nella costruzione e nel consolidamento della democrazia, ha scritto Presidente poche settimane fa. Parole che condividiamo e rilanciamo con forza. Purtroppo la pandemia ha colpito duramente anche il nostro settore, già segnato da problemi più risalenti. Non è mancato e non manca l'orgoglio per quanto abbiamo fatto e continuiamo a fare, in particolare in quest'ultimo anno e mezzo, in cui avere informazioni affidabili e complete è stato ancora più importante in un mondo spaventato, a tratti smarrito. Ciascuno di noi cerca di dar seguito al meglio al desiderio, al progetto di comprendere e di far comprendere agli altri, come ha detto di recente a Trento, ricordando il tratto di Antonio Megalizzi, giovane collega per sempre nei nostri cuori. Confidiamo nei prossimi mesi di recuperare completamente i nostri spazi di agibilità con il progressivo allentamento delle misure anti-Covid. Ma per poter lavorare al meglio servono prospettive robuste anche sul piano economico e normativo. Penso in particolare, tra i tanti dossier aperti, alla gravissima situazione dell'ImpG, il nostro ente previdenziale, che chiama tutti, ciascuno per il suo ruolo, a fare il massimo per scongiurare il peggio. E penso al tema delle regole, dopo la sentenza della consulta che ha cancellato il carcere per diffamazione, tranne che per i casi più gravi. Un buon passo che però richiede un ulteriore intervento del Parlamento in materia e non solo su questa materia. Presidente, il ventaglio che le doniamo oggi, tra poco lo vedremo, eccolo. È una riflessione sul concetto di rinascita, ci dice la giovane artista che l'ha realizzato, Virginia Lorenzetti, allieva dell'Accademia di Belle Arti di Roma. E siamo davvero contenti, dopo la pausa forzata dell'anno scorso, di aver potuto dar vita al tradizionale bando tra gli studenti di tutte le Accademie d'Italia. Anche questo un piccolo segno di normalità. Di ritorno alla normalità e ringraziamo l'Accademia di Roma e saluto la Presidente e la Direttrice. La luce indicata nel titolo e nell'opera è ispirata alla Divina Commedia di Dante, che lasciando l'inferno è sopraffatto dal color zaffiro intenso del cielo e per un attimo dimentica tutto il dolore di cui ha fatto esperienza nel suo viaggio. Un omaggio al sommo poeta, guardando al futuro della nostra Repubblica, scrive l'autrice. È un augurio per riemergere dal buio e camminare insieme verso un Paese libero e più unito di prima, così come è accaduto 75 anni fa. Un augurio che facciamo tutti nostro, Presidente, con energia e fiducia, prima di congedarmi ringraziandola per aver rinnovato questa preziosa occasione di incontro.